Poeta, per l'ultimo artista, vorrei soprattutto dire grande grazie, grazie da parte di noi perché chiamo Umberto Barbera, il nostro instante, un'altra cosa che è grazie a Umberto, abbiamo sempre un reportage professionale, veramente, sono tanto tanto grata tutti noi ti ringraziamo tantissimo, di vero cuore un altro personaggio, mio marito, che da oltre tre anni si fa tutto, ha detto che lui fa che sono, sono forse meno professionali, meno nitide perché farlo sempre tutto con il cellulare però sono due uomini, grandi uomini, veramente il loro contributo è enorme al programma Versegiendo, sotto gli astri vorrei tantissimo ringraziare a Umberto e a Luciano un poeta, bravo poeta perché pure lui ha fatto tantissimi progressi dalle prime portate con grande piacere ascolteremo adesso suoi versi, fiammiste di molto molto vicini alla stavistica del realismo terminale, Umberto Barbera Grazie